coletta mamma in piazza prego buonasera a tutte a tutte noi siamo le mamme dei delinquenti noi siamo le famiglie che assieme ai nostri figli delinquenti hanno vissuto la repressione in casa abbiamo subito le persecuzioni le eh perquisizioni della Dicos alle sei del mattino abbiamo dovuto cercare un posto dove mandare i nostri figli ad abitare fuori da Torino perché hanno ricevuto i divieti di dimora abbiamo visto trasformare le nostre abitazioni in carcere tutti in carcere noi i nostri figli quelli denunciati quelli non denunciati con in cui eh momenti in cui tutte le notti avviene il controllo del carabiniere alle tre di notte tutta la famiglia viene svegliata e bisogna aprire rispondere e la carta d'identità momenti lunghi mesi in cui non si può invitare nessuno a casa sicuramente non gli amici ma neanche parenti neanche gli affetti stabili e neanche l'idraulico perché bisogna chiedere permesso al magistrato di sorveglianza se ti serve l'idraulico ora per affrontare tutto questo noi ci siamo costituite in un comitato e sicuramente all'inizio è stato utile per affrontare la complicata macchina giudiziaria che che ha colpito che colpisce con la repressione ma fin da subito abbiamo voluto portare tutta la nostra solidarietà a chi subisce la repressione siamo genitori che condividono le lotte dei nostri figli e le lotte di chi è perseguitato e a volte purtroppo eppure colpa della nostra educazione perché abbiamo inculcato dei valori che poi hanno provocato la discesa in atto in campo con l'attivismo questa sera vogliamo interrogarci su una questione eh che è già rimbombata più spesso cioè com'è stato possibile com'è possibile che nel nostro paese si sia arrivati a un livello tale di repressione che la repressione colpisca qualsiasi azione qualsiasi movimento qualsiasi espressione di dissenso a noi non pare vero ci riconosciamo nella costituzione che ci è stata spiegata prima e non ci capacitiamo ci vogliamo fare delle domande le vogliamo fare insieme a voi la risposta facile è questa è stato a scatasuna non l'ho detto io l'ha detto una ministra quando gli è stato chiesto conto del sangue dei ragazzini versato sulle piazze eh versato dai dalle manganellate eh la risposta vera è molto più complessa è molto più complicata ed è anche dolorosa perché ci tocca sicuramente come generazione noi anziani e ci tocca come popolo della sinistra laica progressista di sinistra io non punterò questo dito contro il governo perché sono passati tutti i governi di tutti i colori e non parlerò neanche dei partiti che ci hanno delusi tutti ma c'è un mondo di sinistra c'è un popolo della sinistra che si è smarrito che ha smarrito le parole che ha smarrito gli obiettivi e che non ci difende più come diceva Maurizio all'inizio nessuna nostra rotta è più difesa da nessuno ci giriamo indietro e siamo lasciati da soli non c'è una massa non ci sono opinioni oggi questo fantasmagorico popolo di sinistra ha immolato al concetto di legalità tutti i suoi altri valori non c'è più la giustizia sociale non c'è più la solidarietà non c'è più il valore del conflitto c'è il valore della legalità e badate bene basta leggere le pagine basta andare sui social se avviene uno sgombro di un posto sociale occupato i commenti delle persone di sinistra perché andiamo a vedere i loro profili sono è stata ripristinata la legalità e mandava ripristinata la legalità e però bisogna rispettare le regole quando si parla di azioni di protesta le proteste sono accettate vanno bene se sono silenziose se non rompono le palle se sono pulite se non sporcano se non scrivono sui muri se sono molto silenziose e se non bloccano il traffico che dobbiamo andare a lavorare dobbiamo andare a fare shopping il sabato tutte altre non sono accettabili non è un caso e lo dico davvero con molta sofferenza che la splendida macchina repressiva di Torino che è la migliore in Italia e riconosciuta sia stata montata da un magistrato di sinistra che ha fatto della lotta alla mafia la sua carriera e che ha qui dentro la sua casa il problema noi ce l'abbiamo in casa guardiamoci negli occhi il problema ce l'abbiamo noi ed è proprio nella mancanza di questo consenso popolare nella mancanza delle altre persone e nella mancanza del consenso popolare che le lotte stanno un po' morendo diciamo ce lo fanno molta fatica perché gli attivisti sono comunque sempre meno e sono sempre meno numerosi e quindi sono obbligati a sacrificarsi a immolarsi e diventare degli eroi ma le lotte non hanno bisogno degli eroi le lotte hanno bisogno della gente della massa di ritornare ad essere tanti ad essere molteplicità su questa cosa vi lascio solo più due suggestioni poi vado a svenire di là primo la frammentazione l'abbiamo già detto tutti prima sta cavolo di malattia nostra della frammentazione abbiamo smarrito gli ideali e non facciamo altro che farci la guerra in casa ognuno per sé ben ben divisi ce lo possiamo permettere no non ce lo possiamo più permettere forse non ce lo possiamo più permettere secondo come facciamo ad allargare questo consenso dobbiamo lavorare sui nostri linguaggi dobbiamo lavorare sui nostri metodi dobbiamo lavorare su dei metodi dei linguaggi che siano più inclusivi che ribaltino le narrazioni che davvero lavorino sul dissenso io credo che l'unica cosa davvero positiva è che in italia ci sono siamo rimasti in pochi ma siamo tanti piccoli pochi ci sono numerose oasi di resistenza tantissime allora facciamole crescere facciamole allargare mettiamole in sinergia tra di loro e mettiamole insieme andiamo avanti insieme come hanno detto tutti quanti quelle che mi hanno preceduto su questo palco voglio ricordare i compagni e le compagnie di ckn convergiamo e insorgiamo ma non riusciamo a insorgere se prima non convergiamo bravo Grazie.